quella degli dei dal cerchio firenze 77 attraverso roberto setti i romani avevano come religione quella degli dei e con questa accesa convinzione avevano creato delle forme pensiero tanto caratterizzate dense da essere scambiate dai veggenti come entità reali quando il popolo alimentò la forma pensiero del cristianesimo che scalzò quella degli antichi dei questi apparvero ai veggenti come entità sbiadite ed evanescenti le forme pensiero sono spiriti elementali artificiali creati dalla mente dell'uomo che le impronta sono quindi forme pensiero improntate che si distinguono dagli spiriti elementali naturali perché questi sono creati dalla legge d'evoluzione e non dall'uomo